Ampliare e accelerare i verbi della campagna vaccinali anti-covid restano quelli con una novità. Nel pomeriggio di ieri una circolare del Ministero della Salute ha dato una nuova svolta. La quarta dose verrà istesa, su base volontaria, a tutte le persone con almeno 12 anni di età. Più precisamente i vaccini bivalenti, quelli nuovi aggiornati a Omicron 1 ma anche Omicron 4 e 5, potranno essere resi disponibili su richiesta dell'interessato come seconda dose di richiamo, cioè come quarta dose. Tenuto conto, si legge nella circolare, dell'indicazione di utilizzo autorizzata da EMA e AIFA. La dottoressa Graziella Soldato, direttore Unità Operativa Complessa Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Asla di Pescara, precisa. La novità della circolare è che essenzialmente tutti possono fare dai 12 anni su la quarta dose. Però la circolare ribadisce nuovamente quali sono le priorità della quarta dose, della dose booster. Cioè quelle categorie già elencate in precedenza, cioè gli ultrasessantenni, le persone al di sopra dei 12 anni però con particolari fragilità, gli operatori sanitari, gli ospiti delle case di riposo. Quindi per questi soggetti è raccomandata la second booster, mentre per tutti gli altri 12 anni in su, se sono interessati, possono riceverla senza controindicazioni. Quarte dosi e c'è stato il vaccino bivalente, il primo vaccino, come è andata? C'è ancora una scarsa adesione, questo è preoccupante perché purtroppo le forme gravi di Covid si manifestano in quelle categorie che erano state invitate alla vaccinazione. Dottore, se molti dicono vogliamo aspettare il nuovo vaccino aggiornato contro altre varianti di ottobre? La comunità scientifica si è espressa dicendo che non è possibile esprimere un giudizio preferenziale per l'uno o l'altro vaccino, perché sono tutti ugualmente efficaci e i dati sul campo lo hanno dimostrato. Dunque, priorità alle categorie fragili, ma la novità di questa circolare sta nel fatto che il vaccino anti-Covid può essere praticato a chiunque, ovviamente in maniera volontaria. C'è richiesta, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dall'ultima vaccinazione e abbia almeno dai 12 anni in su. E non dimentichiamo che poi ci sono stati tanti ammalati di Covid, quindi immunità naturale. C'è un'immunità naturale di cui bisogna tener conto e quindi tener conto per la giusta tempistica alla vaccinazione. Ci saranno ulteriori vaccini aggiornati? Sì, ci saranno. Ad esempio i vaccini spray, già in India e in Cina sono stati autorizzati questi due tipi di vaccini che potrebbero anche essere il futuro. Adesso vediamo la vera efficacia sul campo e quindi sono in studio altre decine, anzi centinaia di vaccini. E quindi questo potrebbe, è tutto mirato non ormai a limitare l'infezione, ma a limitare la diffusione, la circolazione del coronavirus. E c'è l'ok alla quinta dose per i fragili.